Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori TV LED da 50 pollici. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Samsung. Il Samsung RU7450 Television è offerto esclusivamente Amazon.com, quindi non cercarlo nella parte superiore dei grafici più venduti. Rispetto al RU7400, rimane in colore argento e, molto più in particolare, può dipendere dal cost smart remote così come la funzione di controllo dell'immagine Supreme Woodrowaring. Generalmente termini, si tratta di un presunto design entry-level, con tutta la durezza e le debolezze che questo comporta. Questo è un settore di mercato in cui Samsung sa esattamente come fare punti. Al numero 4, abbiamo Philips 7300. Nella scelta di questo disegno in cima ai nostri 5, ammettiamo, c'è anche una componente soggettiva. Questo design merita di essere assegnato per alcune selezioni coraggiose, per niente evidenti su un prodotto nella sua fascia di prezzo. Ti riporta un po' più indietro rispetto ai suoi concorrenti in classifica venduti online, sono circa 500 euro, ma a nostro parere è un sacrificio che vale la pena fare. Al terzo posto, abbiamo la iSense H50B7200. Al terzo posto una TV di fascia media, che compete alla pari con il design Philips nel prezzo. iSense è riconosciuto per capire esattamente come fare il mercato TV a piccolo costo, che non ti costringono a rimpiangere di non aver investito quei 100 euro in più. In questo caso, si conferma di abitare bene il segmento centrale del mercato. Con alcune soluzioni interessanti. Per cominciare, il supporto per la tecnologia moderna HDR su tutta la linea HDR10, HDR10, HLG e anche Dolby Vision. Al numero 2, abbiamo il Philips 6800. Questo modello Philips è alternativo e un po' più economico stiamo discutendo una distinzione di circa 60 euro rispetto all'elemento che ha in cima alle nostre proposte. Da un punto di vista tecnico, è estremamente simile al suo fratello maggiore. Sulla 50 PUS 6814 barra 12 c'è la funzione Ambiligt su tre lati. Con lo stesso identico effetto sulla visione di film e i vari altri programmi l'occhio è distratto dalle imperfezioni delle posizioni nere e finisce anche per essere meno stanco. Infine, il numero 1 nella nostra lista. Abbiamo il TCL 50 IP 641. Questo marchio di TV non accumula l'approvazione unanime. Abbiamo effettivamente incluso nel nostro display a causa del costo relativamente piccolo, essendo un dispositivo da 50 pollici con risoluzione 4K. Il produttore cinese TCL sta davvero lentamente facendo la sua strada nel mercato grazie a offerte budget friendly accompagnate da buona qualità di alta qualità. Questo modello ha alcuni aspetti piuttosto intriganti, insieme ad alcune restrizioni, menzionate da specialisti e clienti. La qualità dell'immagine superiore è eccellente nel complesso. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.